Siamo prontissimi, abbiamo provato un po' la pancuta e riuscirà sicuramente benissimo. La mia pizza nooo! E mi tuffo e dico no la mia pizza nooo! Siamo prontissimi, sono prontissimi, sono prontissimi, sono prontissimi. Linea fissa! È stata una mattinata diversa dal solito, aiuta un po' a creare gruppo, a sentirsi un po' parte anche di queste cose dell'azienda. Stanno mettendo a mod di Pichistrello e Giulio Golia. Prima ci hanno provato sulla panca di legno ma non andava bene. La linea fissa! Mi occupo di coordinare delle attività strategiche messe in campo insieme anche ai colleghi del territorio. Il prezzo che mi conviene è che non aumenti dopo pochi mesi. Sì dai, se la farà! Eh! Guarda un po'! Ora si a cappotta no? Perché poi tocca anche a me. Secondo me ora si a cappotta no? No! 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 Mi sono fermato prima? Cosa voglio una collezione internet! Ok! Sei stato bravissimo! No!